Oggi vorrei parlarvi di una legge, di una legge dello Stato italiano. È stata approvata nel 1990, quindi se ne è ricordato l'anniversario, il trentennio, ed è la legge 185 che ha questo nome, questo titolo, nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. È una legge che ha fatto storia, che ha fatto anche scuola, perché è una legge molto avanzata che venne approvata in Italia dopo uno scandalo, uno dei tanti scandali di traffico illecito di armamenti, ed è avanzata perché contiene diversi elementi molto interessanti, per cui tutti i scambi commerci di armi devono essere conformi ai principi ovviamente della Repubblica, devono esserci degli stretti controlli da parte del governo, vengono previste informative costanti ogni anno in Parlamento, ma soprattutto quello su cui voglio concentrarmi è che questa legge all'articolo 1, primo articolo, vieta espressamente le esportazioni di armamenti verso paesi in stato di conflitto armato, paesi la cui politica contrasti con l'articolo 11 della Costituzione italiana, bellissimo, lo ricordo, l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Poi è vietato qualsiasi scambio di commercio di armi con paesi sotto embargo totale o parziale, paesi responsabili di accertate gravi violazioni delle convenzioni sui diritti umani, paesi che ricevendo aiuti dall'Italia destino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese. E poi sempre nell'articolo 1 è vietata l'esportazione di armi in contrasto con gli impegni internazionali dell'Italia, i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato e lotta contro il terrorismo, mantenimento di buone relazioni con gli altri paesi e poi quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali. Questo è molto importante per evitare triangolazioni perché tu li vendi a qualcuno che poi sai comunque che arriveranno poi a qualcun altro illegalmente. Bene, questa è una legge di 30 anni fa. Qualche settimana fa a Roma in Parlamento è stato presentato un rapporto di diverse associazioni, Rete del Disarmo, Rete della Pace e altri, Save the Children, Amnesty naturalmente, dove risulta questo, che l'esportazione di armi italiane è cresciuta e continua a crescere. Negli ultimi cinque anni è stata pari a 44 miliardi di euro di autorizzazioni, pari da sole alla somma dei 15 anni precedenti. Guardiamo i paesi in cui vanno, Kuwait, Qatar, Regno Unito, Germania, sono in testa alla classifica da cinque anni. Però le armi italiane vanno anche alla coalizione di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che è attiva in un conflitto armato in Yemen. E poi va verso altre destinazioni, definite diciamo eufemisticamente problematiche, come la Turchia, l'Egitto, il Turkmenistan e così via. Ci sono, secondo questo rapporto, oltre 100 miliardi spesi in armamenti che sono andati a stati che sono fuori, sia dall'Unione Europea che della Nato. Sono in forte aumento le armi italiane vendute in Medio Oriente e in stati dove non ci sono regimi democratici. Ma focalizzo l'attenzione brevemente soltanto su un caso, e cioè che dentro questa lista di paesi ai quali noi vendiamo armi c'è anche l'Egitto. E questo è, a mio avviso, palesemente in violazione di quando c'è scritto in quella legge del 185, perché è un paese impegnato in conflitto, sappiamo, in Libia. Secondo tutte le organizzazioni internazionali in quel paese si commettono gravi violazioni dei diritti umani e sappiamo tutti cos'è successo a Giulio Reggeni, sappiamo che la verità per Giulio Reggeni ancora non c'è, sappiamo che in quel paese, proprio in questo momento, è incarcerato illegalmente, in modo del tutto arbitrario, un nostro studente italiano che studia e lavorava in una università italiana, cioè sto parlando di Patri Zaki. Insomma ci sarebbero tutte le condizioni per dire che quello è un paese con il quale, secondo la legge italiana, non possiamo avere scambi di vendite di armamenti. E invece, lo sappiamo tutti, anche recentemente ce ne sono state e di molto importanti. Quindi la mia domanda è molto semplice. Perché non rispettiamo una legge dello Stato italiano, la legge 185 del 1990?